Ciao ragazzi e ragazzi, pensavate che finito Sanremo fossero finiti i video spettacules per quanto riguarda questa cremessa? E gni... ah, perché? Dobbiamo parlare di un ultimo argomento che sta rimbalzando in tutti i social, in tutto internet e si tratterebbe, viene chiamato il Sabrina Ferilli Gate Cosa è successo? Lo andremo a scoprire oggi, così, con questo secondo video inattesissimo però non potevo non farlo e quindi, Spinity Sanremo Edition 2022 parte 2 è iniziato qua Io sono qua in compagnia con la mia Red Bull, questa volta a zero Mettetevi comodi perché anche oggi dobbiamo spettegolezzare Spettegolare, scusate, è che sono un po' rintronato, pensavo di aver finito con questi video Invece, Sabrina, una mia nazionale, ci dà sempre delle soddisfazioni Se vi siete persi la reaction alla classifica finale della serata di ieri più la programmazione dei vincitori, vi lascio il video qua sotto È quello che vi ho pubblicato oggi alle 13 Ma adesso, momento ASMR, poi possiamo andare con i gossip 3, 2, 1 Ah, che bellezza! Mi ci voleva proprio Sorso iniziale e adesso vi vado a raccontare cos'è successo Nella finale di ieri di Sanremo mega successo 800.000% di share 13 milioni di telespettatori Non ci è passato inosservato un certo atteggiamento per quanto riguarda Amadeus E soprattutto la co-conduttrice della serata di sabato, Sabrinona Nostra Nazionale Che io amo e le chiedo sempre tramite video di diventare mia madre Perché adoro, io amo Sabrina Ferilli Cosa è successo? Sembrerebbe che tra i due ci fosse stata una specie di, non lite, ma guerra fredda In quanto, si dice soprattutto su Twitter Amadeus non avrebbe lasciato parlare quasi mai Sabrina Ferilli Quando, per esempio, dovevano presentare i cantanti in gara O magari dovevano dire i premi Insomma, sembrerebbe che Amadeus avesse preso il sopravvento Scordandosi molte volte della presenza di Sabrina Che a questo punto è rimasta accanto a lui a fare la bella statuina Tutto questo avrebbe fatto scherteletrare i maroni a Sabrinona Nostra Che si sarebbe anche un po' arrabbiata dietro le quinte E il tutto è partito perché su Twitter è andato virale questo video Importanti Che il premio della critica mia Martini Riascoltiamolo più lentamente In questo spezzone si sente di sottofondo Sabrina Ferilli dire qualcosa e poi pezzo di me Ok? Tutti hanno iniziato a capire Gianni fa il pezzo di me E quindi si sono un po' domandati cos'è successo tra Sabrina Ferilli e Gianni Morandi Però ragazzi e ragazzi ci dà la spiegazione che secondo me è super valida Daniela Collu che io ho preso un suo estratto delle storie sue di Instagram In cui spiega che da romana non dice Gianni fa il pezzo di M Ok? Ma dice quelli grandi i fa il pezzo di M Ok? Che in romanesco sarebbe i premi quelli grandi quelli più importanti Li dice Amadeus a me mi lascia quelli piccoli Ma vi faccio vedere la storia da cui ho preso questa spiegazione Che secondo me Sabrina Ferilli non ha detto Morandi pezzo di merda Ma la frase è proprio una sintesi, una crasi in romano di quelli grandi fa il pezzo di merda Ve lo dico io Riferito ai premi che sta annunciando Amadeus lasciando a lei i minori Ovviamente dopo questo primo video tutti sono impazziti E hanno iniziato a andare a rivedere anche gli spezzoni precedenti Perché questa cosa è successa appunto poco prima della fine, no? Della finale E hanno notato molte persone 007 grazie a loro Perché non gli passa mai nulla a queste persone Hanno notato che già da quasi all'inizio Tra Sabrina e Amadeus c'era un po' di maretta O meglio hanno notato molte espressioni di Sabrina E che hanno lasciato poco all'immaginazione Per esempio Quando stavano, hanno presentato Iva Zanicchi E Sabrina e Iva stavano parlando Amadeus si è messo in mezzo E vi faccio sentire Prima lo spezzone che dice Iva Sempre qualsiasi età Poi vabbè io sento Vi lascio sole Che sì Magari No Tu devi rimanere qui E poi Ora ascoltate quello che dice Sabrina Tranquillizzi Rassereni Ambe non dico niente Che faccio Quindi Tutta la teoria del Sabrina Si è un po' arrabbiata Giustamente Perché è stata chiamata lì Per fare la co-conduttrice E poi L'hanno messa a un di nulla Perché faceva tutto Amadeus Viene anche ribadito Da Sabrina stessa Ma non è finita qua Perché Sempre quando Sabrina era dietro le quinte Amadeus va per chiamarla Perché la vuole al suo fianco E si sente Sabrina dire questo Sabrina ci sei? Scusa Sabrina Ti voglio vicino a... Ma non ce sto Ora Amadeus Durante l'ultima conferenza stampa È stato messo al corrente Al corrente Dai giornalisti di queste cose E le ha un po' giustificate E le ha un po' giustificate come per dire Sabrina È Diciamo Una del popolo Quindi dietro le quinte Parlava con tutti Avversava con tutti E si dice Che Quando ha Diciamo Imprecato Che ha detto un pezzo di... Qualcuno dice che Magari Era Anciampata In un cavo Altri dicono che Era Così Per scherzare Tutto quanto Ma Amadeus Durante la puntata Quando è andato Dietro le quinte E si sente Sabrina dire Non ce sto Dice Ah vabbè Si sta ancora cambiando di abito Però poi Sabrina Esce Che l'abito È lo stesso Il blocco precedente Quindi Da qui qualcuno Ha storto un po' il naso Dicendo Vabbè È successo qualcosa Qualcun altro invece dice Ma non ce sto Piuttosto che dire Io non esco Perché non ho voglia Perché tanto parla solo lui E io devo sta ferma Non ce sto Potrebbe darsi Che il vestito Che si doveva andare a mettere Non le entrasse Però io dico Lo sai Da Boh Due tre settimane Che va a Sanremo Non penso che ti prepari In un vestito Che Non ti sta Ok Quindi Non lo so Io lascio a voi La parola Su questo fatto Secondo voi Non ce sto Era per l'abito Che non gli entrava O il fatto Che non volesse uscire Per fare la bella statuina Fatemelo sapere Qua sotto Tramite commento Il tutto però Sarebbe iniziato Con la presentazione Di Emma Come cantante E vi lascio a questo video Bella e Dario Il codice Scusami No no Ci mancherebbe altro No no 14 Qui si vede Palesemente La frecciatina No di Sabrina Come per dire Oh ci sono anch'io Stai rubando I miei pezzi Ma molti su Twitter Dicono che Amadeus Non l'ha fatto Con cattiveria Ma che ormai Stanco e provato Da tutte queste Super serate Di lavoro Andava avanti Ormai così A macchinetta Senza rendersi conto Che magari rubasse Anche la scena A Sabrina Ultimo ma non meno Importante È il fatto che Amadeus Si avvicina A Sabrina Per darle la mano E lei Non gliela dà La canzone Vincitrice Di questo 72esimo Festival Di Sanremo Quindi Ragazzi ragazzi Queste sono tutte Le prove Che girano in internet Per quanto riguarda Il Sabrina Ferilli Gate È anche vero Che Sabrina Ha appena pubblicato Questo post su Instagram In cui ringrazia tutti E scrive Grazie a tutti A tutta l'organizzazione Rai A Sanremo Rai A tutti gli autori E ai tecnici Ma soprattutto Grazie a te Amadeus Ti voglio bene Mettendo Un punto Come per dire Vabbè Non è successo niente Vabbè Abbiamo chiarito Vabbè Ti ringrazio Ti voglio bene Quindi Tutte le voci Che stanno uscendo In queste ore Non sono vere In più Amadeus Nella conferenza stampa Si è un po' Diciamo così Arrampicato sugli specchi Dicendo che Sabrina Che tra lui e Sabrina Non c'è mai stato niente Che Sabrina era tranquillissima E che non ce l'aveva con nessuno Quindi L'ultima parola Ragazzi Ragazzi Tocca a voi Fatemi sapere qua sotto Tramite commento Cosa ne pensate Di questo presunto Litigio Tra i due Se c'è stato veramente Se è tutta un'invenzione Di noi vecchie Ciabattone Che abbiamo voglia Di trash E in questa edizione Ok Ce n'è stato Ma meno Rispetto al passato Vi ricordo solo Dov'è Bugo Che è passato Alla storia Però Insomma Io ve ne ho voluto Parlare Per concludere In bellezza Con un po' Di sano gossip Un po' Di sano Spettegulesso Un po' Di sano Trash Questa edizione Di Sanremo 2022 Fatemi sapere Tutto quello che volete Tramite commento Ve lo ripeto Mettete mi piace A questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Se ancora non lo avete fatto Per oggi è tutto Davvero Noi ci vediamo domani Davvero Senza parlare Di Sanremo Davvero Complimenti ancora A Mahmood E a Blanco Ciao